Sono 22.767 gli elettori di Francavilla al mare su un totale di 26.033 abitanti che a ottobre saranno chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale della propria città. Scaduti alle 12 di questa mattina i termini per la presentazione delle liste, gli aspiranti alla fascia tricolore nel comune della costa adriatica, dopo l'uscente Antonio Luciani, sono Luisa Russo, Roberto Angelucci, Livio Sarchese, Moreno Bernini, Franco Moroni, Camillo Paolini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello. Otto concorrenti sindaci, il numero più alto di sempre, per un totale di 20 liste che sviluppano un esercito di 316 candidati consiglieri in corsa per la prossima tornata elettorale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, quando alle urne saranno chiamati 22.767 elettori a 20 diritto, di cui 10.995 uomini e 11.772 donne. A raccogliere il testimone dell'uscente Antonio Luciani è la candidata del centro-sinistra Luisa Russo, unica donna in corsa per la fascia tricolore, avvocato amministrativista e attuale assessore comunale a commercio e demanio, col sostegno di 5 liste, Antonio Luciani 2021-2026, Partito Democratico, Alleanza Democratica, Insieme Siamo Francavilla e Francavilla in Azione, per un totale di 80 candidati alla carica di consigliere. Dal centro-destra le risponde Roberto Angelucci, imprenditore in pensione e già sindaco di Francavilla al Mare nelle passate consigliature, le più recenti dal 1998 al 2008. In questa tornata elettorale Angelucci è sostenuto dalle sei liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc con Abruzzo indipendente, Noi per Francavilla e Angelucci sindaco, per un totale di 95 candidati. Altro aspirante sindaco per Francavilla al Mare è l'avvocato Livio Sarchese, supportato dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Siamo Francavilla con 32 candidati. A sostegno di Moreno Bernini, consulente e operatore turistico, c'è la lista di Uniti a Sinistra, composta da 16 candidati. Un raggruppamento civico con ispirazione di centro-destra sostiene il candidato Franco Moroni, geometra con le tre liste di Francavilla nel cuore, Nuove prospettive e Cambiamo, per un totale di 48 aspiranti consiglieri. In corsa per la carica di sindaco anche il medico di base in pensione Camillo Paolini, sostenuto dai 16 candidati della lista Aria Nuova. L'imprenditore Gianluca Baldassarre si candida a sindaco con il supporto della lista Gianluca Baldassarre Sindaco con i 16 aspiranti consiglieri comunali. In corsa anche l'avvocato Carmine Montebello, con la lista civica indipendente Etica Montebello, composta da 13 candidati. Ora, con l'ufficializzazione delle candidature validate dai funzionari comunali, potrà dunque dirsi aperta la campagna elettorale anche a Francavilla al mare, dove il meccanismo di voto sarà quello della doppia tornata elettorale per i comuni con più di 15.000 abitanti. Se infatti nessun candidato otterrà più del 50% al primo turno, sarà ancora campagna elettorale, in vista di un ipotetico ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.